Sono iscritto al Tennis Club Bonviso, credo da circa 20 anni, quando sono arrivato non sapevo assolutamente manco di avere una racchetta in mano, adesso me la camicchio, non lo so, sono certamente un professionista, ma soprattutto ho trovato un ambiente familiare, tanti amici, la possibilità ogni volta che vieni di giocare, giocare in un clima davvero di serenità. Si sta bene, si mangia anche bene, c'è anche l'opportunità di vedere le partite insieme e magari sfottersi un po' tra quelli del toro e quelli della igra, io appartengo a quelli del toro, venite numerosi!